Il federalismo Come un vantaggio per tutti ma non lo è Con una straordinaria inversione della realtà dei fatti Si percepisce il nord come vittima di un sud parassitario Che vive sulle spalle di ceti laboriosi Soprattutto della Padania Che non ha radici nella storia reale Un federalismo che non piace neppure alla CGL L'impianto generale non funziona E sarà un problema per tutto il paese Ha detto il segretario nazionale della CGL Danilo Barbi Non essere più dipendenti ogni anno dal bilancio dello Stato È giusto, ha detto Barbi Ma va fatto in modo equo E per farlo bisogna prima cambiare il fisco in Italia Che è ingiusto e non aiuta lo sviluppo Un federalismo insomma che penalizzerebbe in particolare il meridione Il governatore di Puglia ha parlato anche di processo breve È un eufemismo parlare di riforma della giustizia Il Parlamento impegnato nella costruzione di una gigantesca prepotenza Che è quella di sottrarre il premier Berlusconi Al dibattimento del caso Mills Noi siamo di fronte al rischio di mandare in fumo processi importanti Che vedono un pezzo di taglia a tutto il paese In attesa di conoscere la verità Credo sia insopportabile, ha continuato Che non si voglia un processo breve Ma il processo è brevissimo e anzi nessun processo La riforma non serve a cambiare la giustizia per tutti i cittadini Grazie Grazie Grazie